Venga, venga signor Temino, vi faccio vedere la sua nuova casa, tutto qua, forno, un impianto a gas, prendiamo il lavello con l'acqua, poi quando inizia la cena naturalmente avrà bisogno di aprire un tavolino, di aprire il tavolino, ok, come dare il frigo, adesso prendiamo il frigo, e lui dice, per dormire a letto ci si va dopo cena, quindi Artemio, vede bene, chiudo il tavolino, tac, 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 e si prepara per andare a dormire, tac, 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 e tac, buonanotte, comodo signor Artemio? Sì, direi di sì.